Vittoria della Sampdoria per 1-0 sul Monopoli, ma a questa partita, il detto calcistico, due punti con un gol, ossia il massimo risultato con il minimo sforzo, non si attaglia per nulla. La Sampdoria gioca con tre punte, Lorenzo è con la sua conclusione, Vialli, Francis, Matteoli è in panchina. Il Monopoli agisce in contropiede, ottima la conclusione di Lanci, e raddoppia in fase difensiva le marcature. La Sampdoria non trova una tattica giusta e il Monopoli riesce a contenere la partita, e quando non ci riesce, come in questo caso, Primizio salva sulla linea di porta. Il gol al trentasettesimo, di Pellegrini, da 20 metri. Una Sampdoria nel primo tempo piuttosto confusa, frastornata dal pressing, come dicevamo, del Monopoli, una Sampdoria nettamente migliore nella seconda parte della partita, allorché ha praticato un continuo assedio alla porta dell'ottimo Mancini. Eccolo a intervenire su Sannes, poi su Vialli e Lorenzo segna, ma l'arbitro annulla per fallo di Vialli. È il terzo minuto del secondo tempo. Splendido Mancini su questo tiro di Scanziani. Poi per questo intervento di Bettinelli su Lorenzo, il cross è di Galia, l'arbitro concede un calcio di rigore, è l'ottavo del secondo tempo. Franzi si è incaricato di battere, il tiro è centrale, è alto. Continua l'arrembaggio della Sampdoria, vi facciamo vedere uno scampolo di bravura dell'ottimo portiere Mancini, sugirata di Lorenzo al termine di questa azione, una delle migliori della ripresa. Grazie a tutti.